E' da tanto tempo che non lo facciamo e quindi oggi tutorialone. Oggi parliamo di Bing X, questo exchange minimalista, oserei dire, rispetto agli altri, che ha delle caratteristiche molto, molto discrete, molto belle per quanto riguarda la sezione trading. Infatti è uno degli exchange che lascia ancora molto spazio, per esempio, alla operatività un po' sotto privacy per la questione che non è necessario, per esempio il KQC, per avere tutto l'accesso anche a quelle che sono le operatività. E poi è uno di quegli exchange che ha come nucleo, come focus, a dare molto spazio ai trader a livello operativo, utilizzando dei tools che rendono gli ordini, per esempio, di eseguito molto più intuitivi, molto veloci, molto funzionali addirittura anche per quelle che sono le operatività, in spot trading e questa è una cosa assolutamente molto, molto interessante. Exchange interessante, molto semplice, con una palese vocazione a quello che sono le operatività di trading. E quindi andiamo a fare questo tutorialone. Allora, iniziamo subito dalla questione opening. Intanto, come sempre, ragazzi, vi lascio il link in descrizione della offerta che c'è stata data relativa appunto ai pacchetti bonus e fino addirittura a cifre veramente enormi di bonus trading, quindi fino a 5.000 dollari di bonus trading se andate a completare quelle che sono le diverse task. Partono da 50 dollari di bonus con un deposito da 500 dollari e poi arrivano addirittura fino a 5.000 dollari. Allora, vi lascio il link in descrizione, potete utilizzarlo ovviamente per avere queste scontistiche. In ogni caso, partiamo invece dalla questione dell'opening e dell'exchange che funziona come sempre, quindi bisogna registrarsi ovviamente per accedere, ma la possibilità di utilizzare queste exchange è solo con il deposito di criptovalute. Quindi non è possibile al momento utilizzare il deposito delle monete fiat, quindi euro, dollari e quant'altro. Quindi è un classico exchange che lavora esclusivamente con le criptovalute. La peculiarità tra le altre cose di questo exchange è anche rispetto agli altri. Quelli che sono secondo me i punti di forza sono essenzialmente due, ve lo dico subito così, già vi focalizzate appunto su quelli che sono i punti di forza. Primo, le commissioni di trading che sono più basse, sia quelle spot trading, sia quelle future trading. E soprattutto lo spot trading è interessante perché sono commissioni basse, veramente più basse rispetto ad altre, quindi è interessante. E poi anche la questione legata appunto ai tools di trading. A livello di trading è molto evoluto questo exchange e ti permette, ci permette di fare delle cose veramente interessanti. Allora, andiamo a vedere insomma il classico, io ho depositato qualcosina qua ragazzi per fare una serie di test. Andiamo a vedere intanto la sezione dei mercati perché tra le altre cose hanno una sezione particolare che si chiama Wealth, che è questa qui, ecco ve la faccio vedere subito. In pratica la sezione Wealth, guardatela un po' come la sezione earning degli altri exchange, perché in sostanza è un modo di mettere le nostre criptovalute a rendita in qualche modo. Vi faccio però capire che questa sezione non mette le cripto in earning classico, come quelle che abbiamo sugli altri exchange, però applica una serie di strategie basate essenzialmente sulle opzioni per poter generare quelle che sono i profit che vediamo e quindi i TAG, per esempio, stimati. Ad esempio, guardiamo USDT con la strategia Shark Team. In questo caso ci sono due strutture, quindi Bullish Bitcoin e Bearish Bitcoin per esempio. Andiamo a vedere questa che ha durata tre giorni perché se fate iscriviti vi spiega che cos'è. In pratica vi dice che Bitcoin in questo momento quota circa 67.600 dollari. Se va in una forchetta di pricing compresa tra 68.400 e 85.000 entro i prossimi tre giorni, abbiamo in pratica una struttura di rendimento che può arrivare fino al 28%. In pratica dopo i 68.400 sale il rendimento e a scadenza viene consegnato il rendimento. Attenzione, questo è un rendimento di natura annuale, quindi non è il rendimento della singola operazione 16% per un'operazione, assolutamente no. È sempre base annua, quindi dovete calcolare. Però è un modo in pratica di far rendere le criptovalute attraverso sistemi che hanno un minimo anche di atteggiamento da trader. Cioè dovete un po' scegliere se ragionare sulla versione Bullish o sulla versione Bearish. In base anche per esempio a quelle che sono le vostre prospettive. Si possono utilizzare per esempio i sette giorni sul Bearish eccetera. Quindi vedete un po' la vocazione della trader come già si vede anche nella parte legata al famoso earning che non è semplice deposito lì ma comunque un minimo ce l'ha. Ovviamente il capitale al 5% è sempre garantito in questo caso e il 5% è legato alla questione di minimo interesse annuo per esempio su USDT e ci sono anche su altre criptovalute per esempio sia Bitcoin, sia USDT, Ethereum eccetera. Quindi questa era una questione interessante. Vi faccio poi vedere invece quelle che sono le interfacce relative al trading spot perché oggi in questo tutorial volevo anche andare un po' nel vivo e spiegare quelli che sono alcuni ordini perché c'è la possibilità per esempio di utilizzare il take profit e lo stop loss anche sugli ordini di natura spot e questo è veramente interessante. Allora facciamo un esempio l'avevo già fatto tra le altre cose. Qui siamo in spot trading con il mio account nella tipologia degli ordini. Abbiamo ordine a mercato, ordine limite, ordine ETP ed SL, questo è interessante. Intanto a me piace sempre ragionare in Bitcoin. Metto per esempio un ordine di acquisto, in questo caso di 0,01 Bitcoin. Dovrei farci con i fondi a disposizione e dopodiché vado in spot e a mercato eseguo quest'ordine. Quindi va ad aprirmi in pratica la posizione che troverò nella cronologia degli ordini perché in realtà gli exchange, la parte spot non è una position aperta in termini di trading bensì un ordine vero, di un asset vero. In questo caso io ho comprato realmente un pezzettino di Bitcoin. Sendo che io posso a questo punto per la stessa identica quantità andare a inserire un ordine TP o SL e in questo caso userò per esempio un ordine TP. Dovrei aver comprato a 67,695. Adesso facciamo finta di mettere un prezzo di attivazione di 67,720. Vediamo se ce lo prende. Per uno totale, in questo caso io devo fare vendi, quindi 67,720. Ok, vediamo se riusciamo a scriverlo. Ok, 7,20, perfetto. E qui andrò a inserire il mio importo, cioè quello massimale che ho di Bitcoin, che è questo qui. E a questo punto inserisco. Mio Dio non ce lo fa perché sta salendo. Li dobbiamo modificare perché volevo farvi vedere proprio in tempo reale se riusciamo a prendere l'operazione. Ecco, l'operazione è stata inserita e sarà relativa esclusivamente, ecco che è stata anche eseguita. Per in pratica è andato in take profit questa operazione che avevo inserito in exchange spot. Quindi avevo fatto un ordine spot, però poi ho inserito il take profit per quell'operazione ed è stata eseguita perché ha raggiunto il mio trigger price. Questa cosa è interessante nel spot perché noi possiamo utilizzare lo spot in questo caso anche per le nostre posizioni in holding e ad esempio è molto buono per prendere dei TP molto lontani. Ad esempio entro adesso su Bitcoin, metto un TP a 123 mila dollari e quando viene raggiunto me lo esegue. Stessa cosa, posso mettere uno stop loss ai miei ordini spot e resta appunto in piattaforma e viene eseguito. Ovviamente ci sono sempre i rischi connessi a piattaforme che gestiscono le vostre credito. Sapete bene che depositarle al di fuori dei nostri wallet privati e quindi espone tutte quelle che sono le nostre credito valute al rischio fallimento dell'exchange in questione. Quindi valutate sempre la questione no diciamo not your key, not your crypto come si diceva una volta e quindi questo vale sempre ragazzi a prescindere con tutti gli exchange. Allora questa funzione interessantissima del trading spot poi per quanto riguarda la questione del trading c'è anche la possibilità eventuale di poter attivare un trading di natura demo e questa cosa qui potrebbe essere ad esempio utile qualora volessi fare degli esercizi. Per esempio nell'ambito del trading sui derivati con i perpetual day future io qui ho trading demo quindi vado a cliccare sulla struttura di la piattaforma trading demo e qui posso andare ad eseguire un po' tutto quello che mi pare perché ho un capitale netto in questo caso di se non erro 100.000 dollari e posso vedete eseguire per esempio io qui andrò in questo caso a mercato a comprarmi un intero bitcoin apro il long in demo e chi si è visto si è visto. Queste sono operazioni per esempio che vengono eseguite inversione future quindi in questo caso sui future per esempio qui io sono a guadagno 52 dollari posso chiudere o a limite o a mercato l'operazione quindi oppure posso ad esempio aggiungere la posizione un take profit o un SL o un stop loss da aggiungere appunto a quello che io sono andato a fare io in questo caso sento tanto un finto chiuderò a mercato la posizione guardate che nonostante tutto ho pagato più commissioni quindi non è stato sufficiente quei 50 dollari perché ho comprato 67.000 dollari le convinzioni sono sui future queste qui ve ne mostro eccolo qui ragazzi le ho prese dal nostro tutorial che trovate anche sul sito Trading On dove è pubblicato anche l'intero tutorial se volete accostarlo a questo video trovate e vi lascio anche il link del tutorial in descrizione di questo video allora qui il future perpetual ha 0,02 di maker 0,05% taker mentre lo spot ha 0,1 0,1 sia maker che taker e poi c'è il future standard che è un pochettino più caro allora morale della favola diciamo compagando anche lo 0,05 di taker non sono riuscito a recuperare perché le commissioni con il rialzo che aveva fatto BTC ecco perché anche nel demo torniamo a vedere diciamo dei loss in quel caso perché aveva fatto pochissima variazione insomma ecco questa qui è quanto allora per quanto riguarda la struttura invece del trading sul future la cosa che mi premeva farvi vedere era questa funzione qui intanto il margin che può essere isolato incrociato quindi prende tutti i vari wallet oppure soltanto quello isolato ma a me piaceva tanto questa funzione la funzione modalità posizione che vi consente in pratica di decidere se aprire posizioni long e short in maniera unidirezionale oppure in modalità coperta cioè è possibile tenere contemporaneamente posizioni long e short di un unico contratto e sommare i PL eccetera in pratica con la modalità copertura quando io vado ad aprire una posizione long e sullo stesso asset apro poi una short le posizioni resteranno due quindi la short non va a chiudere la posizione long bensì coesisteranno entrambe le posizioni e io posso utilizzarle per strategie diverse vedete come vi dicevo appunto questa exchange è molto pro trading molto strutturato per poter avere un trading di un certo tipo facciamo ancora una volta un esempio quindi prezzo a mercato andiamo a comprarci il nostro 0,01 bitcoin apriamo la posizione long in questo momento ho comprato 0,01 bitcoin se voglio andare per un'altra strategia per esempio a fare uno short su bitcoin andando a utilizzare questa funzione che è appunto definita modalità di copertura non mi aprirà una funzione una operazione e non mi chiuderà questa operazione me ne aprirà un'altra contrapposta quindi io qua vado a mettere la stessa quantità vado a mercato e gli dico apri short quindi guardate qui ha aperto lo short e la posizione long quindi sono state non contrapposte vedete non chiuse cioè sono state messe entrambe le posizioni però una è aperta in short quindi ragionano a se stanti questa cosa per i trader è molto importante perché in alcune situazioni ad esempio noi abbiamo delle strategie che vanno a cozzare tra di loro e questo è anche giusto perché si crea una specie di hedging di portafoglio quindi magari abbiamo una strategia di breve periodo che è long su bitcoin una strategia di meglio lungo periodo che in questo momento magari è short su bitcoin e quindi l'una cozza con l'altra però magari la strategia di breve ha delle quantità differenti ha delle logiche diverse ha bisogno di take profit e stop loss differenti e quindi in questo modo io posso gestirle separatamente ed è assolutamente una funzione interessante andiamo a chiudere è tutto vi faccio vedere invece cosa succede se andiamo ad applicare la funzione non copertura ma modalità unidirezionale a questo punto io vado sempre a inserirmi il mio 0.1 di bitcoin vado ad acquistarlo eccolo qui se io adesso vado a vendere invece il mio 0.01 bitcoin aprire una posizione short lui mi chiuderà l'operazione guardate perché ho inserito appunto unidirezionale quindi non c'è modo in questo caso di avere le doppie posizioni quindi questa è un'altra funzione molto interessante di Bing X andiamo verso la conclusione e poi le idee generali cosa, come prelevare ovviamente il prelievo gratuito con il withdraw classico delle criptovalute ragazzi allora primo punto importante relativo a Bing X la questione KYC io sto operando in questo momento il mio context change è no KYC in questo momento io non sono verificato quindi l'operatività può avvenire anche in questo contesto ed è interessante questa cosa pro e contro perché il change è registrato alle isole vergini con tutto quello che ne consegue i rischi sono sicuramente maggiori è vero che loro hanno sponsorizzato anche il Chelsea è vero che comunque ci sono da tanto tanto tempo però dovete sempre tenere a mente che più siamo borderline con le regolamentazioni più ovviamente abbiamo un vantaggio nostro magari per chi vuole operare in privacy e non KYC però al contempo abbiamo un maggior rischio che va assolutamente valutato ragazzi quindi sempre fate i compiti a casa quando ragionate su queste piattaforme utilizzatele per esempio per fare il vostro trading ma senza magari lasciare tanto capitale essendo che c'è la leva finanziaria e che si può utilizzare una leva alta non abbiamo necessità di avere tanto capitale sull'exchange possiamo magari depositare una quota nel nostro capitale utilizzare la leva anche avendo il capitale a disposizione sui nostri wallet privati per esempio molti trader fanno in questo modo per fare cosa per limitare magari i rischi del deposito delle proprie cripto su exchange di questo tipo detto questo piattaforma mi è piaciuta tanto ragazzi per la semplicità e il fatto che può agire su queste cose che sono immediate, facili, veloci ma sono iper utili per tutti i trader soprattutto la questione del take profit e dello stop loss sugli ordini spot trading molto veramente interessante e poi le commissioni sono più basse anche degli altri exchange quindi un nuovo exchange che possiamo tranquillamente utilizzare per chi magari ha più una determinata connotazione può essere utile io li ho praticamente tutti gli exchange ragazzi li uso veramente tutti quanti e quindi ne aggiungiamo uno un'altra freccia al nostro arco bene ciao a tutti e noi ci rivediamo poi nel prossimo video ah ovviamente link in descrizione per registrarvi su Bing Geeks ciao